Devi trovare le tre stelle più luminose che formano il triangolo. Quelle lì? E lì c'è la Via Lattea. È bello viaggiare di nuovo sulla strada, vero? Che ne dici di esplorare gli sconosciuti territori della Quinta Marcia? Eccoci, come stai. È bello vedere. SORRISA! Ho passato di fare una festa! Sto sul bordo. Ecco. Se tu avessi un solo desiderio da esprimere, quale sarebbe? Che questa vacanza non finisse mai. Dimmi, si vede che sono peggiorato. Ora vorrei fare un discorso. Io... Magari, magari Sam le ceriscono. Sì, volentieri. Perché non lo metti tu per me? Come la maggior parte di voi sa, sto lentamente perdendo la capacità di ricordare. Io di sicuro non sarei qui se non fosse per quest'uomo al mio fianco. Questo non è giusto. Non è una questione di giustizia, ma di amore. No, Sam. Voglio affrontare tutto con te fino alla fine. Tusker! Ehi, come stai? Un uomo molto saggio una volta disse, non moriremo per mancanza di meraviglie, ma per mancanza di meraviglia. affrontare tutto con te laیا. Grazie a tutti.